Al Museo Nossi Reis ci sarà una mostra fotografica che si intitola Adotto un sentiero si racconta. In questa mostra saranno esposti i lavori e il percorso che i ragazzi di 109 dintorni di Ivrea hanno raccolto per raccontare questo progetto che ha fatto sì che in Valle Sacra venisse ripristinato il sentiero delle leggende. Anche in questo caso l'associazione Progetto Michela ha dato il suo contributo a far sì che venisse realizzato questo percorso, questo itinerario ad anello in Valle Sacra. Vi aspettiamo al quinto mercato della Terra della Biodiversità San Giorgio l'11 e 12 di maggio, indigena, autoctoni in via di espansione. Grazie. 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 Grazie.